Uomini e donne, perché non va in onda 24 febbraio, De Filippi si ferma, talk cancellato. Perché uomini e donne non va in onda oggi, venerdì 24 febbraio su canale 5, gli spettatori e appassionati del talk show Mediaset che, questo pomeriggio, si collegheranno alle 14.45 sulla rete Ammiraglia Mediaset per seguire la nuova puntata del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, resteranno profondamente delusi. La trasmissione non sarà in onda, a seguito della notizia del tutto inaspettata in attesa della morte di Maurizio Costanzo venuto a mancare all'età di 84 anni. Nel dettaglio, dopo la notizia della morte di Costanzo che ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo e della televisione italiana, arrivano i primi cambiamenti legati alla programmazione pomeridiana di Canale 5. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, questo venerdì pomeriggio, non sarà trasmesso in tv. La messa in onda di uomini e donne risulta cancellata dalla programmazione pomeridiana di Canale 5 del 24 febbraio. Una scelta più che dovuta, visto che le puntate del talk show dei sentimenti vengono a registrare con diverse settimane di anticipo rispetto all'effettiva messa in onda su Canale 5. Non si esclude che, la programmazione di uomini e donne possa subire uno stop anche per la prossima settimana così come non è escluso che ci siano dei cambi di palinsesto anche per altre trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi. Sabato 25 febbraio, in Prime Time, è in programma un nuovo appuntamento conceposta per te. Il People Show dei sentimenti, di cui sono state già ultimate le registrazioni di questa edizione. Non si esclude che, dopo la cancellazione di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, possa fermarsi anche la programmazione di C'è posta per te nel sabato sera di Canale 5. Resta da capire anche cosa ne sarà della nuova puntata del pomeridiano di Amici 22. In programma domenica 26 febbraio a partire dalle 14 in poi su Canale 5. Anche in questo caso, l'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è stato registrato nel corso del pomeriggio di giovedì 23 febbraio. Incentrato in primi sulla missione dei concorrenti al serale di questa edizione. La puntata, quindi, sarebbe già pronta per essere trasmessa su Canale 5 ma non si esclude che Mediaset possa stravolgere il palinsesto di questo weekend. Insegno di rispetto e cordoglio di Maria De Filippi e della sua famiglia, per la morte inaspettata di Maurizio Costanzo. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără blingă, nu te am, nu te voi, nu te minc. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, scui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul e moda onu. Nu, așa-i, și zici că stom fort, la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, vă întâlniți în tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori. Bile mă